non 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 allora adesso riprendo un po' di lui Si è legata anche alle scarpe, si è in meglio. Se senti urlare vuol dire che senti una serie di specazioni. Ma che volta vado a andare giù, devo attaccare tutti i gradoni. Si fa paura. Si frema davanti, non sa fremare. Mai fremare. Con quello davanti. Qui si fai un meteo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.